Prima amichevole presentazione. La Sigma ha cominciato a correre dentro e fuori dal campo. Ieri la prima uscita stagionale ha regalato a coach Perdichizzi i preziosi segnali da Alex Young che con i suoi 34 punti ha lasciato una traccia tangibile nel 176 finale contro la Viola Reggio Calabria. Sabato sera invece i giallorossi si sono goduti l'abbraccio della loro gente in Piazza delle Ancore in occasione della presentazione ufficiale. Ormai è un rito chiudere la stagione estiva a Calderà con la presentazione della squadra. Penso che sia la piazza giusta, l'ambiente giusto affinché questi ragazzi raccogliano l'abbraccio di un'intera città e si rendono conto di come si vive il basket qui a Barcellona. Dopo la delusione dell'anno scorso che è stata terribile, una mazzata tremenda perché arrivare prima e vincere un campionato perché di fatto abbiamo vincito un campionato e essere eliminato al primo turno con un secco 3-0. spezza le gambe a chiunque, però Barcellona si spezza ma non si piega. Questo è il messaggio forte, il messaggio forte è che questa città non ci deve mai lasciare perché alla fine saranno ripagate. Ad animare la serata i momenti di sano cabaret di Sassà salvaggio. A fare gli onori di casa Francesco Nania che ha coaduvato nella conduzione giornalisti Sky Sara Benci e Sandro Sabatini, piacevolmente impressionati dall'accoglienza riservata. Il primo in pot è stato quello di una grande famiglia davvero e di persone che non soltanto hanno voglia di investire ma di divertirsi con il basket, di dare tante soddisfazioni a questa città che è particolarmente affezionata alla squadra. Io credo che la cosa bella di questa piazza è che ci sia numericamente un entusiasmo e una voglia di partecipare, una voglia di essere tutti coinvolti in l'impresa della squadra di basket che è raro trovare nelle altre piazze d'Italia.